RIDI è la nuova scopa elettrica ricaricabile 2 in 1 di Bosch che offre il massimo in termini di flessibilità di utilizzo e comodità. Il suo design compatto ed ergonomico ed il particolare snodo di cui è dotata la sua spazzola le consentono di raggiungere ogni angolo, anche sotto ai mobili, fino ad un'altezza minima di 16 cm. La spazzola motorizzata Power Brush di RIDI è perfetta per la pulizia profonda di tutte le superfici e, grazie alla possibilità di estrarre il rullo rotante, è facilissima da pulire. RIDI, inoltre, è equipaggiata con un potente aspirabriciole integrato nel corpo della scopa. L'aspirabriciole è dotato di un pratico accessorio per la pulizia delle fessure, può essere facilmente estratto per effettuare pulizie rapide ed efficaci su qualsiasi superficie. Svuotare il serbatoio di raccolta è semplice, basta premere il pulsante, estrarre il filtro ed il gioco è fatto. RIDI pesa solo 3 kg e le sue batterie da 16,8 volt le consentono di funzionare su due diverse velocità con un'autonomia di oltre mezz'ora. Inoltre, sta in piedi da sola e può quindi essere ricaricata utilizzando qualsiasi presa di corrente, senza bisogno di alcuna base di supporto. Disponibile in due colorazioni, RIDI è sempre pronta a darti una mano e ad aiutarti nelle pulizie di tutti i giorni.